È stata una stagione abbastanza positiva, quest'anno ho fatto un paio di buoni risultati, cerco di fare questi ultimi punti per passare 2-7, ne mancano giusti 100, con gli ultimi tornei che restano vedo di fare qualche altro risultato buono. Già sono iscritto ad Acerra settimana prossima, quindi cerco di andarmi a prendere questi 100 punti che restano. Raccontami un po' di questa settimana samaritana. Sì, è stata una settimana iniziata bene, ho passato diciamo abbastanza semplicemente il tabellone di terza, ho incontrato Caparco e il tabellone di seconda, Osso Duro, infatti è arrivato in semifinale, poi al tabellone principale, perdendo 6-4-6-4 con Rodríguez, e diciamo mi sono rifatto però col terza categoria, ho portato a casa una coppa che era da un po' di tempo che mancava. In un derby? Esatto, in un derby, saluto Stefano, un derby del TC Caserta, siamo amici. In finale contro Stefano Tricarico. Sì, siamo amici, abbiamo fatto la Serie C insieme, quindi è stato un piacere comunque giocare poi indipendentemente dal risultato.